Si è svolto il Comitato Provinciale sull'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Presenti i vari comuni, tra cui Ebole, con il Sindaco Massimo Cariello, il Consigliere Comunale Delegato alla Sicurezza Giuseppe Labrocca e il Comandante della Polizia Municipale, il Maggiore Mario Dura. Tra le novità emerse è il pattugliamento della fascia costiera in collaborazione con la società che gestisce le aree parcheggio lungo gli 8 km di costa. La Polizia Municipale si occuperà del monitoraggio e del controllo della sicurezza lungo tutto l'asse, al Nucleo dei Volontari della Protezione Civile aspettare il compito di prevenire gli incendi e agli ispettori ambientali il controllo del territorio per debellare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti. Subito quindi al lavoro per dare risposte concrete.